Il sé nell'approccio transpersonale ha una accezione molto diversa del sé psicoanalitico per esempio di tipo diciamo meccanicistico e materialistico, cioè mentre nella psicoanalisi il sé è la matrice psicofisiologica della persona, nell'approccio transpersonale il sé comprende anche la dimensione spirituale, quindi il sé totale è composto da corpo, mente, anima e spirito dove l'anima sta a significare la dimensione degli archetipi, la dimensione delle forme platoniche, le più alte potenzialità dell'individuo e lo spirito sta a significare questo livello non manifesto e che diciamo è di tipo cosmico e a cui il sé partecipa è a livello diciamo di interazione con l'ultima realtà e questa visione del sé come totalità biopsico spirituale non è la sola che proviene da questi studi integrali, il sé è anche riconosciuto come un centro di coscienza, un principio regolatore interno che trascende la mente, trascende l'io e può influenzarlo e diciamo è mentre non può essere influenzato dalla mente e dall'io, quindi è una realtà suprema, patrimonio di tutti gli esseri ed è anche una totalità, il sé è un centro di coscienza e una totalità di corpo, mente, anima e spirito. Nella misura in cui noi ci avviciniamo alla coscienza del sé rivediamo tutti quelli che sono i conflitti con la vita, i rapporti diciamo di importanza che diamo a cose che non ne hanno e le sofferenze che derivano da attaccamenti, cioè questo senso di identità espansa dà anche un grande senso di potenza alla persona e di unione con il tutto che vanifica tante sofferenze dell'ego separato.